Le sensazioni sono positive, noi prepariamo partita dopo partita ogni settimana e sono sicuro che domenica la frotteremo con le piede giuste. Sappiamo che siamo una squadra che crea molto, ultimamente il gol non è arrivato, però sono fiducioso che prima o poi arriveranno anche i gol. In questo filone tutte le squadre sono abbastanza equilibrate, quindi non bisogna sottovalutare nessuno. Ripeto, stiamo subito in un cerine, quindi sono fiducioso. La mia qualità, adattarsi in più ruoli, poi è importante riuscire a trovare sempre pronti quando il mister mi chiama in causa. È stato bravo il difensore a prenderla sulla linea, però ripeto, continueremo a lavorare per far sì che prima o poi la palla entrerà. Negli ultimi anni questo sia uno dei campionetti equilibrati che ci sceglie negli ultimi anni. Ripeto, non so ne sottovalutare nessuno, dalla prima in classifica fino all'ultima perché ci si può aspettare di tutto da tutti. Sappiamo che lo stadio è il nostro dodicesimo uomo in campo.